Nel cuore della città, lasciati alle spalle i ritmi frenetici della vita quotidiana, la profumeria Atmosphere Grace è uno spazio originale dove si possono trovare profumi capaci di trasmettere emozioni autentiche, un luogo dove si raccoglie la cultura per l'arte profumiera. Nella profumeria è possibile approfondire le conoscenze tecniche sui profumi grazie al consiglio e alla consulenza del personale qualificato e competente. Un negozio diverso, un ambiente intimo e raccolto dove poter coltivare questa crescente passione scegliendo fra i brand più esclusivi. La profumeria Atmosphere Grace offre un'ampia scelta di cosmetici altamente innovativi come ad esempio quelli della linea Bay Care, realizzati solo con principi attivi. Profumi di nicchia, d'autore, profumeria artistica. Ogni definizione rispecchia alcune caratteristiche di questo mondo in cui l'eccellenza è protagonista assoluta. Uno spazio speciale è dedicato alle fragranze e ai prodotti di bellezza maschili. Fra i più ricercati non mancano brand come Nelville. Tra i trattamenti viso e corpo, la competenza Sisley universalmente riconosciuta con la sua gamma di prodotti, detersione, idratazione, trattamento antietà, protezione solare e cura dei capelli. Profumeria Atmosphere Grace, il profumo perfetto per te.